Allora eccoci a Parigi, devo prendere il taxi per andare in studio, non cedere. Allora eccoci a Parigi, devo prendere il taxi per andare in studio, non cedere. Allora eccoci a Parigi, devo prendere il taxi per andare in studio, non cedere. Allora eccoci a Parigi, devo prendere il taxi per andare in studio, non cedere. Allora eccoci a Parigi. 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 Grazie.